Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City. In apertura l'aggiornamento sui contagi nei comuni del Vesuviano, numeri in aumento. Poi la cronaca con l'operazione della Guardia di Finanza che ha sequestrato magliette che inneggiano la camorra su una bancherella abusiva a Secondigliano. Torniamo a Torre del Greco, a rientro dalle vacanze. La città si presenta sporca e piena di erbacce come a Via Calastro. Con le nostre telecamere questa mattina abbiamo documentato la situazione. Problematiche denunciate a più riprese anche dai cittadini torresi. In chiusura l'assessore al benessere animale Anna Rita Ottaviano fa chiarezza sulla situazione delle anatre e delle oche nel parco salvo d'acquisto. Questo è D'Alto, guardiamo i servizi. Rientro dalle vacanze preoccupante, contagi in aumento nei comuni vesuviani. Il Comune di Torre del Greco nelle ultime 72 ore registra 5 nuovi casi di positività. Sono invece 6 le nuove guarigioni certificate. Continua così a mutare il bilancio dei contagi con 144 attualmente positivi di cui 9 ospedalizzati. Sono in aumento dunque i contagi nel Comune Corallino. I dati di luglio infatti certificavano 94 persone positive. Per incentivare la campagna vaccinale il Comune di Torre del Greco ha organizzato 4 appuntamenti dal 9 al 30 settembre finalizzati ad incentivare i cittadini a vaccinarsi. Nel Comune di Torre Annunziata invece registrati 7 nuovi casi di contagio da Covid-19 a fronte di 210 tamponi processati, con l'indice di positività che si attesta al 3,33%. Al contempo si registrano 25 guarigioni. Sono 60 cittadini attualmente positivi. Anche Torre Annunziata registra un aumento dei contagi totali, visto che i dati di luglio certificavano 25 persone positive. Prosegue la campagna vaccinale che vede il 50% dei cittadini di Torre Annunziata con entrambe le dosi ricevute, mentre quelli che hanno ricevuto solo la prima si attestano al 61%. Nel Comune di Bosco Reale in una settimana si sono certificati 43 nuovi positivi a fronte di 273 tamponi processati. Gli attuali positivi dunque si attestano a 83%. Continua anche nel Comune di Bosco Reale la campagna vaccinale. Il 57% dei cittadini hanno ricevuto solo la prima dose, mentre il 45% ha completato il ciclo vaccinale. Sulla nuova iniziativa iconografica della criminalità organizzata era intervenuta pochi giorni fa la Commissione Antimafia con un'interrogazione rivolta ai Ministri dell'Interno della Giustizia e dello Sviluppo Economico che riprendendo una notizia divulgata dal mattino di Napoli segnalava la vendita di t-shirt inneggianti alla camorra. Il prefetto di Napoli, Marco Valentini, in prima linea nella nota attività di contrasto alla mitizzazione dei simboli della camorra in città e in tutta la provincia partenopea ha prontamente attivato il Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica e dopo ricerche a tappeto, non solo online ma anche su territorio, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale Napoli ha individuato e sequestrato 50 magliette sposte su una bancarella abusiva riportanti in alcuni casi d'occhi contraffatti delle squadre di calcio di Serie A e in altri casi una decalcomania di una piove nera che ghermisce l'Italia e la scritta camorra. Sono stati finanzieri del secondo nucleo operativo metropolitano di Napoli a sottoporre a sequestro le magliette. L'operazione si è svolta in via Roma all'altezza del carcere di Secondigliano. L'ambulante, appena visto la pattuglia che si avvicinava per il controllo, si è dato alla fuga ma verrà comunque denunciato per i reati di contraffazione marchi e ricettazione per le magliette calcistiche. Le indagini delle Fiamme Gialle proseguono per la sua identificazione e saranno finalizzate anche a individuare le filiere di produzione e distribuzione, anche online, delle t-shirt indeggianti alla camorra. Si invitano pertanto i cittadini a denunciare la Guardia di Finanza, anche tramite il servizio 117, chi si renda responsabile della messa in vendita di articoli contraffatti, soprattutto senneggianti a simboli mafiosi. Anche dopo il ritorno dalle vacanze, la situazione di degrado in via Calastro non sembra essere cambiata. I marciapiedi sono invasi da piante alte e rifiuti che bloccano la viabilità e peggiorano le condizioni igienico-sanitarie in un punto di accesso agli stabilimenti balneari, al parco giochi per i bambini e all'istituto di istruzione superiore degni. Ne hanno risentito soprattutto i residenti, gli abituali frequentatori dei Lidi, nonché i turisti. Immagini che non rendono giustizia alla bellezza del territorio. Già prima delle vacanze, le nostre telecamere il 16 luglio avevano documentato l'invivibilità della zona. Non si comprende a questo punto l'esclusione della via dal piano di diserbo deciso dall'amministrazione comunale lo scorso 4 maggio del 2021. I residenti denunciano uno stato di abbandono che perdura nonostante le numerose segnalazioni e si appellano al senso civico chiedendo risposte immediate all'amministrazione. Come ha trovato la città al ritorno dalle ferie, le condizioni dei marciapiedi, le strade? Lascia un po' desiderare, francamente. Sono dispiaciuta per questo perché io amo la mia città e ogni giorno purtroppo si assiste al degrado continuo della nostra città. Sono dispiaciuta. Come cittadina, come cittadina di Torre del Greco. Come al solito sporco. Soccorso Vittorio Emanuele, spazzatura a morire. Come al solito. Questa è la realtà di Torre del Greco. Bisogna cambiare la mentalità di noi cittadini, la prima cosa. E poi dopo l'amministrazione, che dovrebbero avere più controlli. Controlli non ce ne sono. E questo è il risultato? C'è poco da dire. Un degrado totale. È la stessa cosa. C'è un grande degrado. Erbaccia, spazzatura. Quindi devi camminare facendo lo slalom tra i rifiuti. Come hai trovato al ritorno dalle ferie la città di Torre? Diciamo le sue condizioni, le strade. È un caos. Va bene, ma quella è una questione culturale. Non è solo a Torre. Io lavoro a Portice ed è uguale. Un po' più di senso civico ci vorrebbe, credo. Partendo dalle piccole cose. Le strade sono sporchissime. Poi queste piante non vengono potate. Infatti io soffro principalmente perché posso andare a finire con gli occhi sui rami. C'è un parcheggio selvaggio di motorini sui marciapieti. E non voglio aggiungere altro. Spero che il sindaco ne faccia tesori di queste parole e intervenga quanto prima. Perché sta diventando proprio invivibile questa città. Io non sono andata proprio in vacanze, ma la trovo come al solito un disastro. Ci sta un degrado culturale a Torre del Greco che in 15 anni abbiamo perso 50 anni di storia torrese. In 15 anni abbiamo perso 50-60 anni di storia per il livello culturale che ci sta adesso a Torre, che è quasi zero. Negli studi di TV City l'assessore al benessere animale del Comune di Torre del Greco Annarita Ottaviano oggi qui per fare chiarezza sulla situazione delle occhi e delle anatre nel parco salvo d'acquisto. Nei giorni scorsi il Comune ha emanato un avviso pubblico. Sì, è stato emanato un avviso a un pubblico per venire a conoscenza delle associazioni, delle oasi e delle fattorie didattiche che vogliono ospitare, adottare le papere e le ocche che sono in eccedenza nel parco salvo d'acquisto. Ovviamente si parla fino di vita natural durante. Questo vuol dire che chi ha intenzione di adottare un'oca, una papera, non deve poi a sua volta darla in donazione a terzi. è fatto il rivedo di macellazione, ma semplicemente l'adozione è per garantire il benessere dell'animale. Abbiamo avuto delle ispezioni da parte dell'ASLA e le papere stanno in buone condizioni e non ci sono situazioni genucosanitarie precarie, così come dichiarato o denunciato da parte delle associazioni. Quindi ci tengo a precisare che l'adozione vale soltanto per gli esemplari che sono in eccedenza. Ovviamente la destinazione della villa sarà sempre quella di accogliere tale esemplari, ma saranno accolti in numero ridotto. Quindi solo gli esemplari in eccedenza andranno via, ma resteranno per la gioia dei più piccoli comunque le ocche e le anatre. Sicuramente andranno via soltanto nel momento in cui arriveranno delle domande da parte dei terzi, ma il comune comunque si riserva di verificare attraverso gli uffici da parte di coloro che faranno richiesta se ci sono tutti i requisiti. Quindi è un avviso, ma un avviso anche esplorativo, non è un avviso definitivo, perché se praticamente le domande che pervengono non ci sembrano in linea con quanto vuole, con quanto indicato dalle linee di indirizzo del comune, gli animali di esemplari resteranno nel parco. Quindi il comune verificherà sia se i terzi hanno le condizioni per consentire l'adozione, ma anche una volta che l'adozione viene effettuata continuerà a vigilare. Certamente, infatti per questo si parla nel bando Fino Abita Naldura Durante, perché resteranno praticamente di proprietà delle persone che le adotteranno attraverso la registrazione presso l'asla, ma il comune si riserva di monitorare lo stato di salute e di mantenimento delle stesse. Che sia ben chiaro che non c'è la volontà di parte di amministrazione di eliminare completamente le anatre e le ocche dal parco e resteranno quelle che sono consentite e che sono state praticamente monitorate dal comune stesso. Con questa notizia si chiude oggi questa edizione del nostro TG. Vi ricordo che per info e segnalazioni potete inviare un'e-mail all'indirizzo redazionechiocciolatvcity.it o chiamare al numero 340 6561 484. Con questo è veramente tutto. Arrivederci a domani. Grazie a tutti. Grazie a tutti.